Il Viceglie vince e convince nel primo turno di Coppa Italia di Lettanti, anche se resta il rammarico di aver visto un Corato con alcune assenze, ma soprattutto in dieci uomini dopo neanche quattro minuti di gara. Il risultato di 2-0 finale però lascia ancora qualche spiraglio per i Coratini in vista del match di ritorno previsto domenica prossima. 2-4-3-3 a confronto con Fabio Di Domenico a scegliere il trio Mbaie e Suriano Frappampine in avanti e Diomandè davanti alla difesa. Squadra completamente rivoluzionata rispetto allo scorso anno con praticamente il solo Addario tra i pali confermato. Rivoluzione effettuata anche dal Biceglie con Franco 5 che schiera subito il tridente pesante con Salghiero, Di Rito e De Vivo. E i nero-azzurro stellati che quest'anno festeggiano il centodecimo anniversario della fondazione ci mettono solo quattro minuti per passare in vantaggio. Addario si salva sul tiro ravvicinato di Bonicelli ma sulla conclusione successiva di Di Rito, a porta praticamente vuota, ci mette la mano ripanto. Cartellino rosso e penalty. Ancora protagonista Addario però che respinge la conclusione di Di Rito, bravo a ritrovare il pallone e a siglare l'1-0 sulla ribattuta. In vantaggio di marcature e in vantaggio di un uomo. C'è solo la squadra di Franco 5 in campo con Addario sempre protagonista per due volte prima di piede sul tiro di Salghiero e poi bloccando la sfera sulla palombella inventata da Di Rito. Ma al decimo era doppio di casa, la perfetta incornata di Salghiero sull'assist preciso di Di Rito e nulla da fare per Addario. Ci mette un po' il corato stordito a trovare le contromissure al quarto d'ora in baie dopo una bella serpentina a calciare in porta con la sfera alta di poco. La replica di casa è con una doppia opportunità. Si ripete il duello di Rito a Dario con l'estremo difensore bravo a destreggiarsi sulla conclusione dell'attaccante biscelliese. Sul proseguo dell'azione è Bonicelli prima a farsi deviare il tiro in corner e poi a sfiorare il tris con un colpo di testa fuori di un soffio. Dopo 20 minuti di gran ritmo le due squadre rallentano e il palleggio tra le linee prende il sopravvento da segnalare solo una punizione di Suriano sventata di testa da Rodriguez. La ripresa prosegue con lo stesso canovaccio del primo tempo. Bicelli in controllo con il corato a provare a pungere in ripartenza anche se le emozioni sono davvero poche. Il tiro mancino di De Vivo è troppo centrale per impensierire a Dario. Anche il destro in corsa di Di Rito dalla distanza finisce sul fondo. Sempre l'estremo difensore ospite protagonista al diciannovesimo sul colpo di testa di Capitano Rodriguez. Il corato potrebbe riaprire il match all'alba del venticinquesimo minuto quando il mio entrato sangue dolce classe 2004 serve in mezzo per Suriano. Un pallone su cui l'attaccante non arriva di un soffio mancando l'appuntamento con il gol davanti a Tarolli praticamente inoperoso sino a quel momento. Il sinistro dalla distanza di Dargenio neutralizzato da Dario e la parola fine però sul match. Vince il Biceglie per 2-0 e domenica prossima il retour match contro un corato sicuramente senza ripanto squalificato ma con la speranza di recuperare qualche assenza e magari riaprire i giochi qualificazione.